bene a tutti su quali persolini benvenuti in questo nuovo video sono siete spacciati dei danan shucks e oggi siamo qui su overwatch in a row to diamond e sono in banca giusto giustamente e non so se lo sapete ma sono stati aggiornati alcuni eroi come morsi e diva vabbè il cambio più grosso è quello a morsi diva praticamente che cosa gli hanno fatto lo scudo la matrice difensiva dura molto di meno e si carica allo stesso modo ma dura veramente molto di meno e in più gli hanno dato sti raggi che in realtà sono forti perché li puoi sparare mentre spari normalmente quindi fai tantissimo danno e in più mentre voli puoi sparare e in più i raggi quindi spari raggi e voli e a morsi invece che cosa gli hanno fatto a morsi l'hanno completamente cambiata adesso è più forte ma è molto più difficile da usare prima era stupita ora ci vuole un po' più di skill che non è skill di bravura proprio ma è skill di priorità quindi di cervello alla fine ma è più forte praticamente che è successo? la ulti non resta più è praticamente le resta con la E la E ce l'ha ogni 30 secondi e ne può restare uno solo quindi uno ogni 30 secondi però quando la matrice è già finita ormai mi devo abituare che la matrice finisce subito ormai vabbè praticamente che succede quando ulta lì si a 0 tutte le skill quindi compresa il rest e in più si potenziano si potenziano quindi il rest il cooldown è di 15 secondi e non più di non più di 30 secondi e poi cura e boost i danni ad aria ragazzi una cosa assurda perché appunto cura l'aria e mo' è tardi ho iniziato già quindi è più difficile da usare perché voi dite vabbè sì però non non funziona cioè mo' è il cessa perché ne resta una volta sì uno ogni 30 secondi e quando ulta ne resta parecchi quindi vi dico che più o meno se uno è bravo resta più o meno quanto prima ma quando vuole quindi comunque è più forte più o meno fa gli stessi numeri di rest io in realtà in una partita ne fatti 26 di rest mai successo però non lo so magari è stata fortuna magari è stato che crepavano sempre i miei e la caccia vabbè però intanto puoi restare quando vuoi tu e non solo quando sono morti in 35 praticamente io che mi dimentico che ora c'è la è questa qua madonna ragazzi non l'ho usata manco una volta c'è la è intendo mi devo ricordare è guardata guardata sì è vero è in più mer si vola ma non vola cioè però no vola proprio peggio di fara cioè vola con lo spazio vola e basta non ha come farà che può volare per un certo il numero di tempo no infinito è fortissima è in più è vero i proiettili sono infiniti della pistolina che ha cioè non deve caricare quando ulta è quando ulta non sempre se sono un po troppo eh beh il primo grande ha vinto andiamo al secondo abbiamo 5 minuti fatti deathmatch ho qualcosa che vuoi tu e niente prendiamo quest'altra di nuovo diva speriamo di ricordarmi di usare le skill perché me le dimentico e soprattutto adesso quando volo e voglio smettere di volare premo ancora il tasto per sparare e non si ferma giustamente perché spara mentre vola prima invece volavi premevi il tasto sinistro del mouse e si fermava perché non poteva sparare mentre volava ora invece sì quindi mi dimentico lì tanto mi devo prendere un po' la mano ancora anche se sono tante partite che la uso eh però buh buh eh questi raggi non pensate che facciano tanto male fanno comunque non tanto danno ma solo che vanno ad aria quindi prendi tante persone in quel raggio lì non è poco in più comunque se stai un contro uno puoi sia sparare che usare razzi cioè quindi fai danni fai danni stupidi praticamente fai parecchi danni cioè Renard muore intanto che tu lo spari spari muore Renard hello aspetta wii gg love diva non con un'altra però non l'ho fatta perché non è un cazzo di raggio ma come cazzo è possibile ho ucciso virgola sarebbe a rinaldo ho speccato la e vabbè pensavo cadde se giù qualcuno l'ho visto l'ho visto che hanno visto i bombardamenti ora anche condiva fantastico l'inseriva qualcosa del genere soprattutto perché gli hanno nel fatto la matrice adesso è più molto più offensiva qualche cazzo di me si rodog si lo sai che vuole si e vedi la ulti di rodog non riesco più a fermarla perché alla fine la matrice dura solo un secondo e mezzo questo genere quindi rodog ti asfalta anche la ulti di qualche raggio però non serve a niente alla fine per i danni che fa lauti di lauti di fara ciò che blocca è inutile ed ecco vedi avrei stato a caso quella morsi cioè non a caso comunque ha fatto bene però non l'avrebbe fatto prima ok nice ragazzi bombardamento tutto tutto ho killato chomp ho killato morsi buona cosa hai visto ragazzi avete visto bombardamento e non posso manco più bloccare la ulti di quel cosa perché basta chi aspetta un secondo e la potete tirare comunque e niente facciamo un po allora sono morto come l'idioto perché mia madre mi deve chiamare dimmi madonna ma no 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 perdiamo alla fine perché mia madre mi deve chiamare uffa madonna che nervoso non posso rispondere da pacenza e niente e niente andiamo un po sto morendo a cazzo perché sto pensando anche al cellulare ok e quindi madonna vabbè rodo che è diventato fortissimo oramai sicura mentre si muove mentre si cura lì si dimezza il danno che li fai cose stupide veramente ma non veramente perché hanno quattro minuti cioè loro hanno preso cioè hanno preso il punto in duecento cioè in overtà in prima non è possibile che hanno lo stesso tempo nostro perché perché mia madre mi deve rompere i coglioni giustamente come è giusto che sia no se no prendiamo quest ecco va bene junk anche pure forte cioè due stack di bombe può fare bomba 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 c'è un altro forte ragazzi volendo può fare bomba 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 perché più piace la bomba aspetta che si dichiarica lo stack esplode bomba bomba e fare roba assurda ragazzi solo 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 troppo forte la gianna eh si 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 metterla la 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 trappolina gli raggi in aria si così si fa uiii e niente ragazzi vediamo un po' che sta partita se la perdiamo è per colpa mia cioè è mia di mia madre alla fine non mia però è comunque mia non è vero lì mi è caduto giù nessuna cosa tardi c'è adesso vediamo se razzi no non c'è nessuno ho failato mamma mia io quei razzi in realtà non li so ancora usare non so come usarli o la dove usarli però lui li ha respedi tutti praticamente vedi tu vedi ma non vedi vedi no allora secondo me dovevano tipo far sì che i razzi facessero più danno più danno tipo agli scudi roba del genere point point sono da pazienza no nessuno di uccidermi dì la piccolina è troppo forte ragazzi già ragazzi ho fatto un macello di anno a ruoto praticamente anno anzio stava lo scudo di reina davanti ma vabbè io mi sono preso tutta la ulti di quelli in faccia praticamente la ulti di anzio me la sono pesa tutta però sono vivo non so come per la magia di fusili forse col lanzo che non muore ok eh ma mi hanno smontato mi hanno smontato letteralmente smontato avete ultato ma che cacchio brava che la ok questo è morto devo ammazzare questa stavola 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 non ho ultato perché non si arriva l'ultere la ma sono morto magari se me si ultasse e mi restasse sarebbe molto meglio così io l'ulti hanno hanno l'ulti invece no deve morire prima di ultare a caso noi stiamo distanza infinita dal punto come giusto che sia no non lo so che cosa sta succedendo in realtà ragazzi sono riuscito a proteggere il punto non so anche io come mamma mia quanto sono forte tutto a caso tutto completamente a caso è fatto ragazzi fantastico adesso sono morto a caso sempre quell'angelo non stava due secondi fa ma fa un culo la merda e ne non muo ma boh la cosa che ora la matrice non farà più manco il grab di rodog non ha un senso ho ucciso morse loro quindi è un 3 contro 4 che non si anche che resta mi si perdo il punto ma perché stanno qua queste non è una morte ha fatto il cazzato la metto però che cazzo non è possibile che se voglio io crepano tutti gli altri pure eh e che cacchi non è non è possibile push ma stanno qua quelli che push vabbè io ci sto qua eh vabbè niente ah non ho preso comunque il primo punto noi in 5 minuti dobbiamo prendere il primo punto e la prima tacca del secondo punto vedremo di farcela abbiamo 30 al secondo più di loro eh vedi non che sono tanti però vediamo un po' se se ci riusciamo io l'ho giocata male diciamo che in realtà l'ho giocata io male parecchio male lo ammetto male perché non peraltro perché mia madre mi assaggia io che faccio cazzata a caccia di cane però comunque ho fatto anche cose buone cioè ho salvato il primo punto da solo praticamente non è possibile che se io crepo poi crepano tutti non lo so veramente non te faccio junkrock quante piccola man ma stai seduto si ah è vero faccio il bo qui in inchino ok mi prendo i danni i prossimi curano e si ricaricano gli ulti hanno widow marker non sa che non l'ho parato quel coso di simmetria hanno anche torbio che cazzo di tincancro hanno ho ucciso qualcuno hanno gel 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 ah no ok teleport down non non so in realtà se posso tirare i raggi mentre mentre mi paro non credo serve un po' troppo forte ora provo si lo posso fare fantastico quindi posso anche tirare i raggi mentre mi scudo ok per ora la partita è fatta abbiamo 4 minuti per conquistare il primo stack del coso vediamo come va aia guarda sta roba guarda no è po' bello è che comunque i razzi sono precisi quindi puoi anche puntare su uno solo praticamente mannaggia miseria quello scudo ehi mi ne vado lasciato mercy nella merda credo aia 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 guarda mi care for we don't make ho distrutto le torrette tipo ma non muore sto qua oh muore merci merci muore quella bombardamento ok vinta dg ragazzi 43 kill ho fatto 43 kill che cos'è sta roba e vabbè raga non si vede un tipo 1 2 3 4 manca che manca e vabbè raga ci vediamo nel prossimo video beh ragazzi bella parte alla fine è immogionante un po' un po' Grazie a tutti.